Noi siamo un collettivo che adunisce l'insieme di un movimento nazionale e è la prima volta nella storia di un nazionalismo che gli anziani prigionieri politici s'organizzano per diventarsi. I nostri scopi sono di diventare tutti gli anziani prigionieri che sono castigati sempre al di là di la brigione del Stato francese e oggi ci chiamiamo a manifestare per fare l'avvenimento in quella repressione.